Siamo qui su Lucca Games Channel con Giacomo Santopietro di Sir Chester Cobblepot, che ci parlerà di Ravenna, un fatto d'arme. Ebbene sì, ho portato la nostra città natale sotto forma di gioco da tavolo qui a Lucca con molto piacere. Ho portato anche gli eserciti, quindi è un'invasione. Esattamente. Ma innanzitutto inizierei a parlarti del background storico, che come gli amanti di Sir Chester Cobblepot sanno, ovviamente il tema è per noi un elemento fondamentale nella creazione di un gioco da tavolo e in questo caso è un tema molto nostro, perché appunto, come dicevo scherzosamente, parla della nostra città natale, ma in realtà è molto importante a livello internazionale perché la battaglia di Ravenna del 1512, che quindi ha festeggiato recentemente l'anniversario dei 500 anni, viene considerata dagli storici mondiali l'ultima battaglia dell'epoca antica e la prima battaglia dell'epoca moderna. Tutto questo in un'unica battaglia perché la battaglia incomincia in un modo, con l'artiglieria schierata in un modo e poi per un colpo, a metà tra un colpo di zenio e una pensata buttata lì, viene poi rischierata e da lì vengono cambiate gli esiti della battaglia e viene completamente modificata quella che è la storia di guerra di tutto il mondo. Ecco, quindi una piccola battaglia, fra virgolette, anche se molto sanguinolenta, che poi ha cambiato gli esiti della storia internazionale, quindi un argomento tutt'altro che locale. La battaglia di Ravenna del 1512 vedeva due schieramenti a fronteggiarsi, quello francese l'esercito assediante e quello spagnolo invece l'esercito in difesa che appunto era già situato nella città di Ravenna ma di comune accordo per non danneggiare la città, i due schieramenti decisero di fronteggiarsi su una piana che era appunto a sud della città, non a caso ci siamo divertiti ad inserire a nord le porte della città di Ravenna per indicare la posizione geografica della battaglia, mentre qui a sud c'è l'accampamento degli spagnoli. Quello che ti ho preparato qui sul tavolo è lo cosiddetto schieramento storico, come sai siamo impallinati con queste cose e quindi siamo partiti per creare il gameplay della situazione originale della battaglia, abbiamo diviso la piana col fiume Ronco in aree quadrate che abbiamo poi occupato in maniera il più possibile a riprodurre quello che era lo schieramento originale con le nostre tessere delle unità. Anche se ovviamente il gioco permette di modificare la storia dando libertà di setup ai giocatori esperti che vogliono provare poi varie strategie di gioco differenti tra di loro. Nonostante quello che può sembrare Ravenna Fatto Darme non è un puro gioco di battaglie, ma stiamo parlando di un gioco mix fra battaglie e gestione ed è un gioco da due a sei giocatori, nonostante come ho detto si parla solo di due eserciti francesi contro spagnoli. Il motivo di questa scelta è proprio perché abbiamo una situazione di gioco a squadre, quindi gli francesi fino a tre giocatori possono confrontarsi contro l'esercito spagnolo composto a sua volta fino a tre giocatori. In questo modo nonostante l'elemento strategico cambi in maniera abbastanza profonda col cambiare del numero di giocatori il gameplay e il bilanciamento di gioco sono assolutamente intatti che è un po' un escamotage che abbiamo imparato da Aletra e da Whitechapel ad esempio, dove era sempre una situazione di 5 contro 1 indipendentemente dai giocatori. Ecco qui abbiamo voluto fare una ripetere... Abbiamo un piccolo problema tecnico, il mio funziona... Prova? Ecco, mi sentite? Ecco, come stavo dicendo, meccanismo da 2 a 6 giocatori. Ok, come vi stavo dicendo, un meccanismo da 2 a 6 giocatori. Tutto questo meccanismo è governato grazie a queste semplicissime carte che metto qui al centro del tabellone che sono le carte comandante. Le carte comandante hanno riportate su di esse i disegni e i nomi... Più le volte, perdonami, che... Mi sentite? Agli elementi narrativi dello sviluppo del game... Abbiamo un'interferenza... Mi sentite? Sì, ok. Si infila ovunque. Stavo dicendo, meccanismo da 2 a 6 giocatori governato da queste carte comandante che riportano i nomi e i disegni. Ci tengo a ricordare tutto il gioco illustrato da Alan D'Amico, grandissimo amico di Sir Chester Cobblepot, nonché prezioso collaboratore, anche voi di Gioconomicon, alcuni di voi forse se lo ricorderanno per le illustrazioni anche di Collapse Boldin. Rivolgo allora ancora una domanda. Sono entrato e ho seguito comunque quello che hai detto finora. Mi sono chiesto, al di là del quadro generale, salendo anche i termini di fatto proprio di lucronia, una domanda della distopia legata al nostro immaginario e questo d'accordo. Ma come si sviluppa in termini di personaggi, in termini di... Tra l'altro non riesco a capire che cosa dite. Esatto. È la mia voce che tra 5 anni vi presenta un altro gioco. Prova, prova. Parlavamo delle carte comandante, che sono queste, vengono divise fra i giocatori, ovviamente nel caso di una partita 6 la situazione è più semplice, dove ognuno ne riceve una, ovviamente al diminuire dei numeri di giocatori è richiesto distribuire nella maniera più equa possibile questi ruoli fra i giocatori partecipanti. Quindi si riesce a ricreare anche senza nessun problema una partita, ad esempio 3 contro 1. Non c'è necessità che le squadre contengano lo stesso numero di giocatori. Fra questi comandanti però ce ne sono due che risaltano in maniera particolare, perché sono quelli che noi abbiamo definito i comandanti in capo. Per andare incontro all'ambientazione storica e per ovviare uno degli annosi problemi dei giochi di squadra, dei giochi cooperativi, dove c'è il cosiddetto puppet master che governa tutti i suoi giocatori e gli dice te fai questo, te fai quest'altro. Benissimo, a simulare la gerarchia militare, qui abbiamo assolutamente uno dei giocatori che deve prendere il controllo e dare le direttive a tutti gli altri. Ed è proprio il ruolo che spetta il giocatore che fa il comandante in capo. Qual è la responsabilità del comandante in capo? Scegliere la strategia del suo schieramento ad ogni turno. Tenendo conto che però, al contrario di altri veri e propri wargame, dove il comandante in capo è giudice giuria, quindi può fare tutto quello che vuole, quando vuole, ovviamente aiutato poi magari dalla fortuna dei dati, qui questo meccanismo non è così libero per due motivi. Uno appunto per dare una nuova sfida sotto forma, perché come dicevo, per noi è importante anche l'aspetto gestionale del gioco. Il secondo è perché qui stiamo parlando di una battaglia cinquecentesca. Ed è importante sapere che in quell'epoca storica, il caro amico Gaston de Foix, ora Monda Cardona, si trovavano qui, cioè all'interno delle loro unità, a guidare le loro unità sul campo di battaglia. Non è come ad esempio un gioco napoleonico, dove i generali stavano sulla collina e mandavano il messaggero con gli ordini a recapitare, vedendo una situazione dall'alto in maniera molto limpida. Qui stiamo parlando di persone che avevano una visuale limitata, perché erano nel mezzo della battaglia. Esattamente, erano già all'interno della battaglia. Di conseguenza, tutto questo è simulato nel gioco in maniera molto semplice. Ci sono delle carte strategia, quindi dal punto di vista del game, che stabiliscono quali tipologie di ordine si possono suddividere fra i tre comandanti del tuo schieramento. Queste carte sono a scelta. Ogni turno il comandante in capo ne ha a disposizione due, fra cui può decidere qual è, secondo lui, la mossa migliore. E prendere sempre dal mazzo i rispettivi ordini, che hanno effetti diversi nella meccanica di gioco. Nel caso della scelta di questa carta strategia, praticamente stiamo andando a dire che Gaston Defoy decide che due dei suoi comandanti andranno a manovrare le loro unità, quindi a muovere le tessere sul campo di battaglia, e invece uno dei comandanti dirà alle sue unità di attendere, di aspettare e vedere che cosa succede. Anche qui abbiamo preso spunto dalla storia per creare una regola molto interessante, ovvero il giocatore che interpreta Gaston Defoy può dire benissimo, Federico Gonzaga tu muovi, io muovo e tu, Duca Alfonso d'Este, rimani fermo. Al giocatore che interpreta Gonzaga o Alfonso d'Este, o anche lo stesso Gaston Defoy, dopo vedremo il motivo, potrebbe decidere che quest'ordine non gli va bene. Perché storicamente avvenne che questo signore qua, un italiano, Fabrizio Colonna, fece la testa calda e rifiutò un ordine del suo comandante Ramon de Cardona, vicere Cardona, e andò all'attacco nonostante gli venne detto di aspettare. Questo è simulato nel gioco con il rifiuto di un ordine. Un giocatore può dire, no io non faccio questo, faccio un'altra cosa, in tal caso si prende l'onere di disubbidire, che ovviamente comporta una cosa negativa per la sua squadra, perché ovviamente la morale della truppa inizia a calare nel momento in cui si vede delle contrapposizioni, esatto, molto forti e interne, ma si può prendere gli onori qualora la sua decisione tattica sia corretta e porta un beneficio poi nella battaglia. Questo è il motivo per cui un comandante in capo potrebbe darsi un ordine e disubbedirsi da solo, che sembra una cosa un po' da schizofrenici, ma in realtà a livello strategico potrebbe dare un vantaggio alla propria formazione. E questo permette anche a giocatori di esprimere la loro personalità e la loro strategia in contrapposizione appunto del loro comandante in capo. Fatto sta che quindi quando ognuno ha stabilito che cosa vuole fare e in caso di rifiuto si va a prendere un ordine non assegnato e se lo tiene, arriva poi il momento in cui le unità finalmente agiscono sul tabellone di gioco. Quindi una prima fase gestionale tutta fatta attraverso queste piccole carte per poi arrivare al tabellone. Come dicevo ci sono varie tipologie di ordini, alcuni semplicemente difensivi o di attesa che permettono a quelle unità di ricevere un attacco in maniera più controllata, altri ordini invece più attivi. Ovviamente l'ordine più attivo in assoluto è l'ordine di attacco, che normalmente stiamo parlando di un attacco in mischia, ovviamente, quindi all'arma bianca. Come notate sul tabellone ci sono le varie tessere unità, sono 12 perché sono state date 4 tessere a ciascuno dei comandanti in modo che tutti potessero controllare lo stesso numero di unità e lo si può intravedere dall'abbinamento del disegno che replica il comandante in campo sulla tessera. Esattamente. Possono andare all'attacco. Il meccanismo di attacco credo che sia uno di quelli che potrebbe più interessare agli spettatori amanti di wargame anche se ci tengo a precisare che abbiamo volutamente creato un sistema di battaglia estremamente semplice. Un sistema di battaglia che prevede un utilizzo di un dado a quattro facce che abbiamo realizzato con questa forma non convenzionale diciamo non la classica forma piramidale esatto tipica del dado a quattro facce per garantire una maggiore casualità al momento del lancio una combinazione che tratta di una semplice somma fra il risultato di un dado e un valore in combattimento delle nostre unità. Se ci fate caso nella tessera delle unità ci sono vari valori il valore di attacco è il quadrato bianco con sopra il numero quello è il valore di mischia ovviamente è il valore di mischia che aumenta mano a mano che l'unità diventa efficace nel combattimento a schermaglia ovvero le tessere di fanteria che sono quadrate perché all'epoca venivano chiamati i quadri di fanteria perché venivano organizzati secondo questo schema quadrato hanno un valore in mischia che generalmente è sempre peggiore delle unità di cavalleria che invece hanno un fronte molto ampio la scelta di tessere di formato diverso viene anche utile nel momento dell'organizzazione delle truppe perché la regola prevede che ogni quadrato può essere occupato fin tanto che ci stanno tessere al suo interno quindi come potete vedere in una situazione come questa in questo quadrato ci sono tre tessere contemporaneamente perché anche l'unità di artiglieria ha una forma particolarmente allungata ma ad esempio un quadrato può contenere fino a quattro unità nel momento in cui parliamo di sole unità di fanteria o soltanto due cavallerie e così via quindi vige la regola che fin tanto che ce ne stanno ne puoi mettere all'interno della casella ovviamente non vale impilarle di conseguenza quindi hanno un'efficacia differente in battaglia ricapitolando il sistema di battaglia ovviamente prevede che le tessere siano adiacenti tra di loro e in tal caso abbiamo indicato il fronte della tessera con il colore della squadra per semplificare e dare subito lampante qual è il fronte di attacco di ciascuna delle unità vengono lanciati i dadi e sommati i valori di mischia dopodiché si stabilisce quindi l'esito della battaglia per avvantaggiare l'attaccante abbiamo garantito a tutti quelli che prendono l'iniziativa e quindi ricevono l'ordine di attaccare un rilancio gratuito del dado in modo da mitigare l'aspetto aleatorio all'interno dei combattimenti ottenuta questa somma chi ottiene il totale più alto vince la battaglia e fin qui tutto molto semplice c'è però di nuovo rientra in campo l'aspetto gestionale che è dato dal fatto di come queste unità subiscono i danni questa differenza fra i due valori facciamo un esempio banale mettiamo che questa unità rossa stia attaccando l'unità dei francesi un 4 più il 2 che ha il valore in mischia un 6 contro loro che fanno 3 più 1 4 la differenza è 2 benissimo questa differenza normalmente causa una perdita di punti morale allo schieramento sconfitto e questo è male perché i punti morale sono i punti vittoria del nostro gioco se un giocatore termina tutti i punti morale del suo schieramento la squadra avversaria vince che cosa può fare quindi un giocatore per prevenire la perdita di punti morale può decidere di autoinfliggersi delle penalità di combattimento per fare in modo che questi punti non vengano persi ci sono sostanzialmente tre opzioni senza annoiarvi la prima è l'arretramento quindi lascio spazio lascio strada ai miei avversari per ridurre di uno la perdita di punti morale quindi in un caso come questo io avrei perso solo un punto morale per cedere la posizione al mio attaccante la seconda opzione invece è la ritirata quindi l'unità gira il fronte dalla parte opposta se la dà gambe elevate e muove al massimo del suo movimento nella direzione opposta questo riduce la perdita di morale di due quindi nell'esempio che abbiamo fatto poco fa io ottengo uno svantaggio tattico non indifferente ma permetto al mio schieramento di non perdere nulla e ovviamente questa decisione è data al comandante che governa quell'unità in questo esempio di poco fa Gaston Defoy quindi il comandante in capo ma potrebbe anche essere la decisione di uno dei suoi sottoposti la terza e ultima opzione è quella che può venire più lampante ovvero l'unità viene ferita cosa facciamo? sfruttiamo le potenzialità della tessera e indichiamo che l'unità è ferita ribaltando la tessera mostrando così il lato giallo del fronte e come si può magari intuire anche se qui sono molto piccole l'unità è stata sfoltita è un po' inrotta questo permette alla squadra di ammortizzare una perdita di punti morale pari al valore di difesa dell'unità rappresentato dal triangolo bianco rovesciato di conseguenza in questo gioco si utilizza sempre e solo il valore di attacco nei confronti ma il valore di difesa è molto importante perché permette nel caso in cui il combattimento sia andato male di ridurre la perdita ferendo un'unità ovviamente ferire un'unità già ferita comporta l'eliminazione della tessera dal tabellone un'unità ferita può comunque eseguire normalmente tutti gli ordini come un'unità normale la differenza è che ovviamente sarà penalizzata nel momento degli scontri perché tutte le volte che per quell'unità sarà necessario lanciare il dado alla somma del dado dovrà sottrarre uno quindi una regola molto semplice che vale per tutti anche qui per non avere un appesantimento del regolamento ovviamente poi abbiamo situazioni di attacco ai lati attacco alle spalle ma anche qui tutto questo è regolato in maniera molto semplice con dei modificatori al lancio di dado lancio di dado che comunque ha un fattore aleatorio limitato per il fatto che abbiamo scelto proprio un dado a quattro facce in modo che lo spettro dei risultati sia meno ampio del classico dado da sei anche perché come si può intuire dando un'occhiata al prototipo alcuni valori arrivano anche fino a cinque quindi più della possibilità di un lancio di dado rendendo quasi matematico il combattimento fra alcune unità molto forti con alcune unità molto deboli come può ad esempio essere l'artiglieria in mischia ovviamente prima dicevo che è una battaglia importantissima perché i cannoni sono stati utilizzati in maniera innovativa di conseguenza non poteva mancare il combattimento a distanza che anche se non è governato da un ordine specifico a ogni turno permette alle unità di artiglieria e quelle poche unità di fratteria che possono sparare come i balestrieri gli archibuggeri o unità di questa tipologia qui di attaccare a distanza anche qui abbiamo optato per una regola di combattimento molto semplice in questo caso facciamo anche qui un esempio abbiamo un'unità di artiglieria dei francesi e un'unità di artiglieria degli spagnoli proprio l'uno di fronte all'altro come avvenne storicamente e possono di conseguenza spararsi vicendevolmente in caso di contemporaneità come in un caso in cui i cannoni si vogliano sparare a vicenda entra in gioco il valore di iniziativa che è questo valore univoco che hanno tutte le unità scritte sull'esagono giallo quindi fra queste due unità ad esempio sparerebbero prima gli spagnoli con 28 anziché i francesi con 30 le unità che possono sparare hanno questo rombo rosso quello è il loro valore di combattimento a distanza anche qui ci viene utile il dado che lanciamo e che a cui sommiamo il valore di combattimento a distanza in questo caso un 6 in base all'unità al quadrato che ho deciso di colpire io andrò semplicemente a sottrarre 1 per ogni casella che attraverso con il mio tiro quindi in questo caso sarebbe 6 5 4 3 le unità all'interno di questo quadrato subiscono 3 danni e i danni vengono regolati esattamente nella stessa maniera cui vi ho spiegato poco fa con il combattimento in mischia quindi posso ferire posso ritirarmi posso fare esattamente le stesse scelte che vi ho spiegato poco fa più unità ci sono più mi viene data la possibilità di gestire in maniera differente i danni facendo un esempio se mi capitasse una situazione in cui ci sono ben 3 unità nel singolo quadrato io potrei decidere di ammortizzare i danni con una fanteria o con un'artiglieria non potendo però fare un mix dei due per evitare che l'accorpamento sia troppo vantaggioso cosa che in realtà storicamente non sempre era e quindi in questo caso devi prendere anche qui una decisione chiara a volte dividendola con i compagni di squadra qualora ci siano unità di differenti giocatori nella stessa casella e quindi ancora qui una volta il gioco vi chiede chiede ai giocatori di prendere delle scelte quindi per diciamo completare l'aspetto e vedere tutti i valori dati alle nostre unità l'ultimo valore che ci rimane da vedere è questo tondo marrone che di numeri ne contiene ben due che è invece il valore di movimento come si può intendere anche poi dalle carte ordine dove l'ordine di manovra è un cerchio marrone che è esattamente lo stesso simbolo che usiamo per il valore di movimento delle unità perché due numeri il primo numero rappresenta il numero di caselle in cui l'unità può avanzare quindi andando avanti seguendo il proprio fronte delle unità in questo caso il valore di avanzamento di questa unità è 1 e quindi potrà fare semplicemente questo il secondo valore invece è il valore di rotazione ovvero quante volte questa unità può girare di 90 gradi su se stessa in un caso come questo quindi dove abbiamo fino a potenzialmente due rotazioni nulla mi vieta di fare un avanzamento e una rotazione o anche due rotazioni anche se in questo caso non sarebbe molto utile ovviamente esattamente la brave art ovviamente la cavalleria anche qui entra in gioco come unità determinante perché di solito è quella che ha il maggior numero di movimento potendo andare in carica appunto con la cavalleria per completare diciamo tutto il panorama tutto il pacchetto strategico che viene dato al gioco vi devo dire che gli ordini saranno segreti fino all'ultimo minuto quindi il fatto che Gaston Defoe abbia scelto questa carta e che abbia dato a due dei suoi comandanti l'ordine di manovrare verrà fuori soltanto quando quei comandanti diranno che manovreranno e quindi questo dà un aspetto molto thrilling al turno perché fino all'ultimo non si sa quale potrebbe essere la strategia dei nostri avversari la seconda cosa è che appunto come dicevo prima fa sempre fede l'indicatore dei punti morale e non solo con il combattimento si perdono come accennavo all'inizio rifiutando ordini per modificare la propria strategia in corsa si perdono punti morale così come si possono guadagnare punti morale eliminando tessere delle unità che contengono una personalità per indicare questo in termini di gioco per indicare che ci fosse un nobile di prestigio all'interno di quelle unità abbiamo utilizzato questo simbolo dell'elmo il numero romano che leggi qui adiacente è quanti punti vittoria regaliamo tra virgolette al nostro avversario lo schieramento avversario se questa tessera ci verrà eliminata e quindi anche qui un importante aspetto strategico è che bisogna decidere quando mandare in campo le unità con i nobili che generalmente erano le cavallerie migliori le artiglierie migliori perché ovviamente loro sapevano la sapevano lunga ma al tempo stesso che ci possono rischiare di dare un avvantaggio all'avversario si cerca di evitare di schierare fino all'ultimo minuto esattamente ultimo ma non da meno vi presento questa figura qui che è il trincerone il trincerone non è altro che una vera e propria trincea che gli spagnoli si erano costruiti per difendersi e quindi ovviamente dà delle penalità al movimento ad entrambi gli schieramenti ma dà delle penalità di attacco a chi cerca di sparare o di attaccare in mischia da fuori si può già facilmente capire la regola perché abbiamo segnato un più uno in alcuni lati del trincerone ad indicare proprio che i valori di quelle unità sono considerate aumentate di uno per chi combatte contro di loro in mischia o a distanza con questo vi ho dato più o meno uno spettro a 360 gradi di quello che è il gioco che come ci tenevo a precisare all'inizio non è un vero proprio wargame ma vuole essere un punto di incontro fra il gioco gestionale alla tedesca fra virgolette e i giochi di battaglie più tradizionali con l'utilizzo del dado e di valori di combattimento eccetera eccetera quello che ti sto mostrando come si può facilmente dedurre anche da telecamera si tratta di un prototipo perché sono venuto qui a presentare un prototipo perché grazie a questo prototipo e grazie ai nostri amici tedeschi del portale crowdfunding Spielschmiede spero di pronunciarlo con un tedesco quanto meno accettabile andiamo a chiedere ai nostri clienti e ai nostri giocatori la possibilità di poter mandare in produzione questo gioco che come già è avvenuto con collapsible D parliamo di un gioco a tiratura limitata di cui ne verranno stampate soltanto mille copie e quindi chiediamo ai giocatori di garantirci la fiducia attraverso la possibilità di vedere il prototipo esattamente nella sua forma più o meno definitiva perché è logico che grazie ai nostri backer come già avvenuto per altri titoli di grande successo ci sarà per noi la possibilità di migliorare la componentistica e i materiali grazie ai loro finanziamenti però diciamo di avere già un'idea di come apparirà il gioco una volta finanziato e appunto grazie agli amici di Spile Offensive e del portale Spile Schmide speriamo di poter portare sui tavoli copie concrete di questo gioco da tavolo al momento ancora non abbiamo una release date ufficiale ma stiamo lavorando per poter al ritorno di Lucca annunciare una data che molto plausibilmente sarà prima delle vacanze di Natale quindi c'è caso che lo vedrete in giro pochi giorni dopo questa intervista e questo incontro che abbiamo fatto che abbiamo tenuto qui a Lucca perfetto ti ringrazio per la spiegazione grazie a te per l'opportunità ovviamente colgo l'occasione anche per ringraziare gli autori che purtroppo non hanno potuto essere qui a Lucca con noi che sono Gianluca Santopietro e Gabriele Mari che già come coppia hanno firmato quello che al momento è uno dei nostri giochi più riconoscibili che è Lettera da Whitechapel si sono cimentati con un tema molto diverso da quello che hanno già proposto meccaniche diverse meccaniche completamente diverse ma speriamo che possano avere la stessa calda accoglienza di pubblico che ci hanno riservato per l'altro gioco perfetto grazie mille grazie anche a Gioconomicon ovviamente